Claudia Mazzetti, volto noto della politica gallaratese, è una delle più giovani candidate alle prossime regionali del 12 e 13 febbraio per la Lega Salvini per Fontana. Partiamo proprio da una delle sue deleghe in città, quella dello sport e quindi dei giovani. Qual è il suo punto di vista? Si, ricopro la delega allo sport da ormai quattro anni nel comune di Gallarate. Questi anni abbiamo sempre cercato di andare a supporto delle tantissime attività sportive e delle varie associazioni sportive che abbiamo sul territorio. Le abbiamo fatto attraverso tariffe basse, calmierate e incentivi per lo sport e per i ragazzi. Abbiamo portato avanti una manovra negli anni scorsi, 80 voglia di sport, che andava proprio a dare un contributo ai ragazzi per avvicinarli alle varie attività sportive. Lo sport è fondamentale per lo sviluppo dei ragazzi, soprattutto fino ai 14 anni e quindi questa attività deve essere incentivata e supportata. Regione Lombardia porta avanti da anni la dote sport, si potrebbe col tempo valutare di aumentare poi anche quello che è il contributo. Però proprio per lo sviluppo dei giovani bisogna puntare sullo sport. Sport, giovani ma anche cultura. Sulla recente inaugurazione della mostra al Maga dedicata Andy Warhol. Si può parlare di impresa da un punto di vista culturale? Sì, noi io sin dall'inizio ho creduto nello sviluppo del Maga perché per noi ha un grandissimo potenziale per la città di Gallarate ma per l'intera provincia di Varese. Adesso abbiamo portato a Gallarate una mostra direi di livello altissimo e di richiamo nazionale. Però in questi anni abbiamo lavorato molto sullo sviluppo del Maga come vero e proprio polo culturale. Abbiamo integrato una biblioteca che attrae e porta al suo interno tantissimi giovani tutti i giorni per studiare. E questo è stato, siamo riusciti a cogliere il messaggio dei tantissimi ragazzi che già negli anni sfruttavano gli spazi del Maga e l'hanno presa proprio come casa, studio e come punto di riferimento. Quindi ascoltando loro abbiamo poi sviluppato questo polo culturale e che è frequentato tutti i giorni da centinaia di ragazzi. Spostiamoci nel cuore dei territori. Lei in passato ha avuto la delega al commercio e quindi ha vissuto il centro in prima persona. Che cosa pensa che si dovrebbe fare per dare vita al centro dei paesi? Questa è una bella sfida. Io ci ho messo tantissima passione negli anni per il commercio perché davvero credo che tutti i negozi, tutte le attività contribuiscano a rendere vivi i nostri centri storici. Sono il nostro patrimonio. Regione Lombardia da anni favorisce le attività storiche, ne fa un cavallo di battaglia e sono quindi da valorizzare e da supportare in maniera direi totale. Quindi bisognerà continuare nel ravvivare i nostri centri storici nel migliore dei modi, quindi attraverso un'attrattività territoriale, valorizzando il turismo, valorizzando le peculiarità che caratterizzano proprio i nostri centri. Restiamo in centro. Un fatto di cronaca che l'ha riguardata in prima persona. Il Mazzetti Point nei giorni scorsi è stato vandalizzato con delle scritte. Come ha reagito e come ha superato? Quanto è accaduto? È stato un atto meschino, un atto che sinceramente non mi aspettavo, anche perché è stato un attacco personale, non tanto politico, perché al di là degli insulti sono state coperte, insomma, il mio volto e quindi l'ho visto proprio più come un attacco personale che non su temi politici. Credo che sia nel 2023 un atto meschino e anche un po' ignorante. L'ho superato andando avanti, nel senso che questo non mi ha spaventato, non mi spaventerà e continuerò a portare avanti le mie idee, le mie proposte concrete che, insomma, mi porteranno a continuare questa battaglia e questa sfida per le regionali.